e qua si va a fare un unboxing un po' diverso andiamo là in fondo eccoci arrivati al posto in un unboxing perché un laghetto eccoci qua via bene è ora di aprirlo ed eccoci qua direi un ottimo imballo eccoci qua 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 il motoscafo è questo della volante RC è lungo anche se non sembra 80 cm bello è leggerissimo pesava giusto 1,3 kg mi pare una cosa del genere e dovrebbe raggiungere 60 km orari che sono abbastanza presto lo testeremo nel nostro laghetto qua quindi vediamo di non distruggerlo subito non mi meraviglierei anche il telecomando non sembra affatto male è stato abbastanza bene come si guida lo scopriremo via avanti e circa il classico ora di comando dell'RC comunque purtroppo adesso non riesco a provarlo perché qua abbiamo i 60 e io non ho litto da fare di questo quindi il motoscafo mi ha fatto una gran bella impressione mi piace un casino e vediamo come si comporta in acqua qua vi faccio vedere il laghetto dove testeremo per la prima volta questo motoscafo un po' pericoloso perché ci abbiamo tante rami eccetera eccetera ma non va lontano se si pianta quindi adesso andiamo a fare un bello spinotto per adattare le lipole iscriviti al canale 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 adesso facciamo il primo test di questo motoscato ci mettiamo la lipo e si parte via si parte si prova iscriviti al canale iscriviti al canale